...specializzato alle attività di ricerca e salvamento urbano che ha come acronimo USA. Compluendo il concorso e presentendo il pacchetto completo di dati del forniturio appunto i operatori che poi faranno tappa al comando provinciale di FISA. Grazie a tutti. ...motto intenso, sono passati da momenti di grande gioia e di grande soddisfazione che le capacità che erano disorganizzate le abbiamo fondamentali rispetto a standard internazionale. Quindi abbiamo cominciato, poi sempre grazie alle forze e alle risorse, e alle ragazze che mi preve sottolineare adesso possibile questo risultato. E voglio ringraziare tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.